Si può dire che è un'anteprima quasi totale? Franco, stai parlando troppo, stasera. Però è un'anteprima. Ormai l'idea. Lo è. Questo è un pezzo che abbiamo scritto dopo aver pubblicato questo nuovo album. È un pezzo che ho voluto dedicare a un mio idolo di infanzia e anche un idolo attuale. Che è Batman. Perciò si intrati al cammino. Grazie a tutti 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 Pausa